Ultimamente si sentono cose molto strane in giro. C'è chi dice che è scontento delle fotografie che escono dai prodotti Apple perché sono troppo finte, troppo artefatte, c'è invece chi si lamenta che ancora non riesce a fare belle foto con questo device che gli aveva promesso di trasformarlo in un fotografo professionista. Ma allora dove sta la verità? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, come ormai saprete mi occupo di fotografia. Ho fatto diversi video parlando del nuovo device iPhone 15 Pro. È un argomento ovviamente molto caldo che ha riscontrato notevole successo anche e soprattutto sul mio canale e quindi io faccio degli aggiornamenti su questo argomento perché siete voi che me lo chiedete. Quindi anche se qualcuno mi ha detto che mi sto dedicando troppo a questo tema io vi invito, se ci sono altri temi che vi interessano, a farmelo sapere perché chi è interessato iPhone me lo sta dicendo di continuo. Se abbiamo degli altri interessi io vi invito a farmelo sapere nei commenti in maniera tale che io possa andare in una direzione che è congeniale alla maggior parte dei miei iscritti. Per questo vi invito anche a iscrivervi al canale in maniera tale che quando pubblicherò un video su qualcosa che mi avete richiesto non andrete a perdervi il contenuto. Benissimo, ma per il video di oggi prendiamo spunto da un articolo di cui vi lascio anche il link da qualche parte, andatevelo a vedere. Il titolo dell'articolo recita La sposa ha le braccia in posizioni diverse. Il caso della fotografia computazionale. Stiamo parlando di un tema che io ho già affrontato ma proprio dal momento zero. Se voi andate a vedere il primo video che ho pubblicato su iPhone 15 Pro io dicevo testualmente fa delle belle foto, la resa è buona però sono un po' artefatte, c'è tanta processazione dietro. È assolutamente evidente per chi ci lavora che quello che tu vedi in una fotografia fatta con iPhone non è quello che avevi davanti agli occhi è straelaborata direttamente dal processore del telefono. Però qui siamo andati un pochettino oltre perché un conto è pensare che la fotografia che io faccio viene rielaborata per quanto riguarda i colori, le luci però qui addirittura stiamo parlando di scatti che sarebbero distribuiti lungo il tempo perché che cosa è successo? Nel momento in cui la persona che ha scattato le foto viene da dire il fotografo ma in questo caso è semplicemente un utente che ha fatto una foto ha scattato questa fotografia a questa sposa il telefono quasi certamente ha scattato più di una foto e questo è assolutamente normale viene spiegato molto bene in alcuni contenuti che ho già pubblicato sulla fotografia HDR che vado a mettervi in card così li possiate recuperare in parole povere che cosa succede? Quando noi stiamo fotografando una scena con il nostro smartphone se le luci sono tutte perfette viene fatta una foto e amen, buona così ma se esistono delle zone di contrasto molto marcate quindi per esempio se stiamo facendo un controluce o se stiamo facendo una foto da dentro casa in cui però si vede anche il fuori quindi abbiamo una situazione molto buia e una situazione molto luminosa nello stesso fotogramma la macchina fotografica ti obbligava a scegliere ti diceva o esponi le cose scure o esponi le cose chiare e una delle due cose non verrà bene perché con le macchine fotografiche è così ed è ancora così ancora oggi il telefono si comporta in maniera diversa la macchina fotografica ha il target dei professionisti che vogliono la precisione e il rigore quindi non la computazione ma un file veritiero il telefono viceversa ha come target il 99% del resto del mondo ovvero le persone che di fotografia non capiscono un tubo ma vogliono fare una bella foto lo stesso il che ci sta non dobbiamo essere tutti fotografi proprio come non dobbiamo essere tutti chirurghi quindi lo smartphone ci viene incontro ci aiuta e che cosa fa? fa la stessa cosa che farebbe la macchina fotografica perché una macchina fotografica professionale può catturare una scena con una ampia gamma dinamica ma dobbiamo essere noi a dirle di farlo glielo diciamo con una serie di parametri che poi probabilmente necessitano anche di uno sviluppo in postproduzione mentre il telefono fa tutto da solo la macchina fotografica fa più di una foto a quel punto per catturare tutte le varie scene facciamo più foto facciamo una foto per le aree scure e una foto per le aree chiare in questo modo abbiamo le informazioni di entrambe le esposizioni ora ovviamente questa cosa funziona bene sulle cose ferme questa è una cosa che io faccio molto sugli interni sui paesaggi, sullo still life a volte sulle cose ferme sulle persone non è una cosa consigliabile perché se noi avessimo un'esposizione per il mio lato illuminato un'esposizione per il mio lato scuro io dovrei stare perfettamente immobile durante queste esposizioni un minimo movimento porterebbe poi a un allineamento sbagliato e quindi la foto non verrebbe bene che cosa è successo in questo caso? noi abbiamo una fotografia con la sposa con le braccia in tre posizioni diverse perché probabilmente il telefono ha scattato almeno tre fotografie di questa scena avrà scattato una fotografia per la sposa vera e poi due fotografie diverse per la sposa riflessa negli specchi questo è successo lungo un arco di tempo abbastanza lungo da dare modo alla sposa di cambiare posizione il risultato finale è una cosa del tutto imprevedibile che quindi non può essere a mio avviso utilizzato come elemento creativo perché è completamente casuale e anzi vi dirò di più è stata casuale la modalità scelta dal telefono per scattare le foto in quella maniera quindi non è possibile a mio parere decidere di replicarlo uno potrebbe dire ah che bello allora adesso prendiamo degli specchi e ci facciamo delle foto e saremo diversi in tutti gli specchi secondo me no secondo me non ci si riesce perché è randomica la cosa ogni tanto può venire ogni tanto no inoltre è un effetto che è piuttosto banale da ottenere anche semplicemente scattando tre foto separate e andandole a miscelare in post produzione è veramente molto facile da ottenere in questo caso ha suscitato scalpore perché non è stato ottenuto con premeditazione ma è venuto fuori a caso e quindi la foto è stata postata e ovviamente ha fatto il giro del mondo e siamo di nuovo qui a parlarne perché? perché ragazzi io questo l'ho detto da subito l'iPhone 15 Pro è un buon mezzo fotografico ci permette di fare delle ottime cose di recente ho pubblicato un contenuto in cui vi faccio vedere che può servire per fare delle foto notturne laddove normalmente avremmo fatto molta fatica a realizzare la stessa cosa con una macchina fotografica invece con questo device facciamo la foto notturna subito però sono tutti i casi in cui non possiamo fidarci 100% del telefono perché farà delle cose di testa sua che sono completamente fuori dal nostro controllo questo è un esempio clamoroso di una cosa che poi fra l'altro può anche non essere indesiderata perché la foto non è brutta anzi è carina questa cosa che ci sia la sposa in tre posizioni diverse sembra fatta apposta sembra un effetto il fatto che non sia un effetto e che sia stata ottenuta a caso ha un po' suscitato scalpore perché questo significa che siamo di fronte a un mezzo fotografico non affidabile perché in questo caso direi fa niente anzi è diventata famosa la sposa quindi può solo che essere contenta credo però ci sono dei casi in cui magari io sto facendo una cosa e la voglio in un certo modo non voglio che la foto mi venga fuori diversa da come la vedo a caso senza che io possa intervenire ovviamente da sempre Apple si vanta di semplificare le cose e questo è vero per esempio Apple ha semplificato l'informatica per gente come me a me non frega niente di diventare un tecnico di computer non me ne frega niente di imparare a memoria le componenti non me ne frega niente che scheda video sto utilizzando mi interessa un po' di più la scheda audio ma vabbè non me ne frega niente quindi che Apple mi abbia dato un computer only in one che io posso attaccare plug and play lavorare e non preoccuparmene più io sono felicissimo allo stesso modo io capisco che ci siano milioni di persone miliardi miliardi di persone che sono felicissime di dire Apple mi ha semplificato tutto il processo fotografico a me non interessava capire la differenza tra un'ottica e un'altra non mi interessava capire la differenza fra un sensore e l'altro ed è pacifico ragazzi ci stava bene così perché per esempio io sono una persona molto curiosa quindi a me interessa sapere la differenza tra un bisturi e un dermatotomo li userò mai nella vita? no però li conosco so la differenza non li so usare non mettetemene in mano uno perché non li so usare però io sono una persona curiosa e quindi conosco la differenza almeno in via teorica capisco che ci siano miliardi di persone a cui non frega niente della differenza tra un bisturi e un dermatotomo allo stesso modo capisco e me ne è rammarico ma lo capisco che ci siano miliardi di persone a cui non frega niente di capire la differenza tra un sensore full frame e un sensore APS-C Apple va a puntare su quella fascia di mercato che vuole ottenere il risultato quindi ottenere una bella foto ma non vuole capire i processi che ci stanno dietro questo è il risultato attenzione non è victim blaming non sto dicendo ti sta bene che hai comprato l'iPhone ce l'ho anch'io quindi non è questione di fare victim blaming è questione di essere consapevoli siamo consapevoli che la cosa ha un prezzo cioè io sono consapevole quando compro un computer all in one che non avrò le migliori componenti avrò le componenti che mi sono state messe a disposizione e che mi viene garantito che servono al mio obiettivo io so che con computer Apple porto a casa il risultato so che non è la cosa migliore che potrei avere ma so che mi sta semplificando la vita mi sta semplificando il fatto di non dovermi imparare a memoria le componenti mi sta permettendo di comprare un pezzo unico invece di dover andare a prendere mille pezzi diversi mi sta dando un pezzo già assemblato invece di dovermelo montare o far montare da qualcun altro e io sono disposto a spendere questi soldi in cambio del mio tempo che posso dedicare a fare altro tra cui per esempio fare questo contenuto per voi allo stesso modo molte persone non hanno giustamente voglia di andare in giro come me con uno zaino da 9 chili con dentro tutte le corbellerie che mi porto in giro anche quando sono in vacanza ed è la cosa più normale del mondo e si portano invece in giro una cosa che avrebbero comunque in tasca ovvero lo smartphone tutto questo è bellissimo i recenti sviluppi ci hanno dimostrato una cosa normalissima e che non ha pressoché ricadute perché non succede niente però ci ha dimostrato che queste foto spesso e volentieri non rappresentano la realtà ma una rielaborazione della realtà la cosa che personalmente trovo non grave non è niente di però la trovo un po' nuova volendo non voglio neanche dire triste perché non la trovo triste è semplicemente una cosa nuova è una componente che prima non c'era è che noi cominceremo a vedere delle foto che sono frutto di un'elaborazione ma non da parte del fotografo da parte di Apple quindi avremo delle fotografie che non sono il risultato artistico di un pensiero ma sono il risultato della casualità e degli algoritmi del processore di iPhone questa è una cosa nuova è una cosa con cui dobbiamo sicuramente venire a patti perché è così e non credo che nei prossimi modelli questa cosa verrà riportata indietro anzi credo semmai che verrà spinta ancora oltre perché comunque l'intelligenza artificiale in questi device è sempre più prepotente quindi avremo delle foto sempre meno realistiche e sempre più finte prevedo che ben presto ci sarà l'opzione di dire ok scattiamo questa foto però voglio un filtro per farmi sembrare più magro un altro filtro per togliermi la barba un altro filtro per cambiarmi il colore dei capelli un altro filtro per truccarmi filtro ancora per togliermi 10 anni e a quel punto dici va bene è un device fotografico però di fatto è un computer che ti sta facendo tutte delle processazioni che non sono sotto il tuo controllo perché tu non puoi decidere come vuoi diventare gli puoi solo dire toglimi 20 anni saranno i parametri così basici e quindi avremo delle foto completamente finte che non raffigurano per niente la realtà e però è così però è così e lo sapete perché è così perché questo è quello che la gente vuole perché tutti quanti vogliono sembrare più giovani più belli più ricchi più magri con più capelli quello lo vorrei anch'io tutti quanti vogliono sembrare meglio di quello che sono veramente da un certo punto di vista va anche bene che sia così però qui forse dico forse ci stiamo spingendo un pelino oltre a questo punto io vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere se avete anche voi un iphone se avete notato cose strane nelle vostre foto io ci sto facendo più caso da quando ho visto questa notizia ma devo dire io non ho visto cose strane non ho visto arti scomparire o ricomparire in posizioni improbabili quindi a me non è successo fatemi sapere se a qualcuno di voi è successa una cosa analoga vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perdete dibattito nei commenti e le mie risposte in forma di video brevi verticali amici è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao